questo argomento è stato, consigliere Adotti, lei ha parlato per 20 minuti su questo argomento io chiudo questo argomento e metto a votazione l'inversione dei punti all'ordine del giorno allora, segretario, per appello nominale per appello nominale, è stato dibattuto va bene allora, per appello nominale, prego segretario stiamo votando l'inversione e l'anticipazione dell'ordine del giorno Di Tommaso Posa Peduto Casagrande Filipponi Di Cicco Caggiano Paoletti Assente Conte Assente Fiasco Assente Carboni Assente Gori Astenuto Marziale Ciuffa Dorazio Assente Primitera Assente Adotti e Pacifici Assenti Gulisano Carlini Duffizi Dodici Favorevoli Uno Astenuto L'opposizione Pedutiani Non c'erano Allora All'ordine del giorno L'inversione dell'ordine del giorno Approvata con 12 voti favorevoli E un astenuto Allora Terzo punto All'ordine del giorno Ex 20 Do la parola All'assessore Mastro Santi Prego Prego Assessore Ah Chiedo scusa Dove sta Peduto Se non mi fa un cenno Non lo vedo Dove sta Consigliere Peduto Allora La parola Al Consigliere Peduto Allora 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 Grazie.